Bene amici di androidblog.it, oggi proviamo la videocamera da 13 megapixel del Desire 816 di HTC Video ovviamente ripreso in full HD Proviamo un cambio di fuoco Vedete molto veloce Anche un controluce E uno zoom che come vedete è digitale La qualità è piuttosto buona nonostante il massimo zoom a 4x Ritorniamo indietro E' video registrato in full HD da Desire 816 di HTC